Amici 24, l'ex fidanzata di Trigno sbotta sui social, lui è un gran coglie lei Dopo aver assistito all'avvicinamento di Trigno alla ballerina Chiara, l'ex fidanzata del cantante è intervenuta sui social con un duro attacco. Ecco cosa ha detto Durante il daytime di Amici 24 andato in onda oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale 5 i fan del talent show hanno notato la vicinanza della ballerina Chiara Bacci al cantante Trigno I due si sono scambiati sguardi e massaggi, non mancando di suscitare le battutine dei compagni in casetta e, soprattutto, la reazione dell'ex fidanzata di Trigno Egemonaco, infatti, si è sfogata sui social, pubblicando un duro attacco contro il cantante e la ballerina Amici 24, l'ex fidanzata di Trigno si sfoga contro il cantante e Chiara Bacci La coppia era tale fino a qualche giorno fa, dato che nelle prime settimane in casetta il cantante aveva espresso nostalgia per la fidanzata Tuttavia, come è emerso dalle indagini social, Ege e Trigno non si seguono più, anche se il cantante non ha affatto più cenno alla sua situazione sentimentale nel programma Vedendo la vicinanza tra Trigno e Chiara Bacci, Egemonaco ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social, condividendo il suo pensiero in maniera molto colorita L'ex fidanzata del cantante, infatti, ha insultato sia Trigno sia Chiara, accusando quest'ultima di non aver avuto alcun rispetto per la relazione che sapeva che Trigno aveva al di fuori della trasmissione Da ciò che ha scritto è evidente che Egemonaco è stata particolarmente delusa dal notare il comportamento dell'ex fidanzato e ha voluto pubblicare il suo pensiero su social, affinché tutti lo leggessero Chiara è una grandissima zetta che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte Il mio ex è un grande colli come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, sì, ho visto e no, non sono stupita Il tempo rivelerà il ver volto delle persone. In questo momento sono più rilassata che mai, so di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona Dalle sue parole emerge anche che è stata Egemonaco voler chiudere la sua storia con Trigno, lasciando intendere che dietro questa decisione c'era la stanchezza di dover sopportare l'atteggiamento a fedifrago del cantante Amici 24, Egemonaco accusa Trigno di tradimento, l'ho conosciuto traditore e traditore è rimasto In un secondo intervento su social, Egemonaco si è poi rivolta direttamente a Chiara Bacci, accusandola di non essere leale verso il suo sesso, dato che gioiva della rottura con Trigno e della sua sofferenza Nella storia Instagram pubblicata, Ege ha poi dichiarato apertamente che le motivazioni che l'hanno spinta a dire addio al cantante dipendevano da alcuni rumors che erano giunti alle sue orecchie sui tradimenti del fidanzato e che si sono rivelati poi veritieri una volta andati in onda i recenti dei Time Quello di cui stava parlando quest'ultima, dei problemi della quale non poteva parlare, riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere dato il dei Time di oggi Gioire della separazione di una coppia e della sofferenza di un'altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell'appellativo che le ho assegnato Sul suo account Instagram, Ege ha voluto che tutti i followers fossero consapevoli del vero volto del cantante e rivolgendosi a Chiara le ha suggerito di tenersi pure stretto il suo ex, ma che la sua natura di traditore non sarebbe cambiata Rivolgendomi a lei direttamente, dico che se lo tenga. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L'ho conosciuto traditore, è rimasto traditore e non cambierà in futuro